Scusi, scusi, un secondo, le vorremmo regalare un ragazzo di sabina, no, più due ragazze, più due ragazze, ragazze! Che me ne faccio delle ragazze! Allora, il ragazzo di sabina! Due ragazze? Ma lui sì, ma lei è ragazza che me ne faccio! Menti la metto! I polizi di fare, sono bravo! Ragazzi, scusate, vi regaliamo un ragazzo di sabina e due ragazze, che ne pensate? Due ragazze! Il ragazzo di sabina ha la pensione, 750 euro a mese tra accompagnamento e pensione, le ragazze invece possono fare le pulizie, se volete! Ti pigli tutto, tu sei zitto, tu sei zitto! Ah, tu sei zitto, quindi allora, mi dispiace! Allora, il regalo, solo per oggi, chiamate, chiamate! Due ragazze, una barba e una... Ah, quale preferisce? Quale preferisce? No, tutti i due sono, su quale preferisce? Sei fregato, vero mio! Scusate! Guarda, e lui tu lo porti pure al regalo! Lui è compreso nel prezzo! Con la carrozzina, però! Con la carrozzina, ma che sia! No, non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, ma se volete! Se volete, ma parto lo scherzo, se volete farci, come se volete, contribuire a presto un libro, scrittura di carrozzina,